Da lunedì 19 ottobre la regione dà il via allo screening gratuito e rapido disponibile su prenotazione nelle farmacie. Una campagna da 2 milioni di test sierologici, la prima in Italia completamente dedicata agli studenti di ogni ordine grado, 0-18 anni e maggiorenni se iscritti alle superiori, familiari conviventi, tra cui genitori, nonni, fratelli e sorelle di alunni, sempre fino alla scuola secondaria superiore e agli universitari, purché assistiti in Emilia-Romagna. La regione rafforza ulteriormente l'attività di prevenzione e controllo contro il Covid, resa possibile grazie all'accordo siglato con le associazioni di categoria territoriali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, con una stima prevista di almeno 400 mila test solo nel primo mese. Una campagna che potenzialmente si rivolge a quasi la metà della popolazione emiliano-romagnola, perché in attesa del vaccino questa battaglia contro il virus la può vincere solo la nostra capacità di individuare, circoscrivere e spegnere sul nascere eventuali nuovi focolai, dichiara Raffaele Donini, assessore alle politiche per la salute. Sono per ora 667 le farmacie convenzionate, pubbliche o private, che hanno già aderito all'iniziativa su tutto il territorio regionale. A Piacenza hanno già risposto positivamente 65 farmacie. In caso di positività il cittadino sarà contattato dai servizi di sanità pubblica dell'azienda sanitaria per eseguire il tampone nasofaringeo.